Questa notte a Castellamare di Stabia e in altre località i militari della compagnia carabinieri di Castellamare di Stabia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura distretto all'antimafia nei confronti di 16 indagati gravemente indiziate a vario titolo dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, lesioni personali aggravate dal metodo mafioso e detenzione spazio di sostanze stupefacenti. Il complesso delle attività d'indagine svolte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Castellamare di Stabia e coordinate dalla direzione distretto all'antimafia di Napoli ha consentito di far emergere l'esistenza di un gruppo criminale originariamente incardinato nel clan cesarano che sfruttando la momentanea assenza di una vera e propria leadership all'interno del sodalizio si era organizzato allo scopo di assoggettare al suo controllo parte del territorio al nord della cittadina stabiese ponendo in essere una serie di estorsioni in danno di commercianti ed attività imprenditoriali della zona. L'attività interpresa da luglio del 2018 in seguito alla violenta aggressione patita da un soggetto notoriamente vicino agli elementi di spicco del clan cesarano ha consentito sin da subito di acclarare l'esistenza di una florida attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestita da alcuni indagati facenti capo a Maragas Antonio, non solo promotore dell'attività delittuosa ma anche il garante della stessa, in virtù della sua forza intimidatrice e di quella dei suoi fiancheggiatori nel recupero dei crediti derivati dai ritardati o domessi pagamenti dello stupefacente. Il proseguo delle indagini in concomitanza con la scarcerazione avvenuta nel gennaio 2019 del pregiudicato lambiase crimal di Giovanni Battista alias lo vichingo ha dimostrato la volontaria organizzativa del gruppo criminale che si proponeva di approfittare del temporaneo voto di poteri ai vertici del clan cesarano imponendo estorsioni a imprenditori, commercianti e finanche ad un commercialista della zona di Ponte Persica ubicato a cavallo tra l'area nord di Castellammare di Stabbia e il territorio di Pompei. Emblematico al tal riguardo è l'arresto in fragranza di reato per estorsione aggravata dal metodo mafioso di Maragas Antonio e lambiase crimal di Giovanni Battista, operato nel giugno 2019, allorquando gli stessi sono stati sorpresi dai militari della compagnia di Castellammare di Stabbia subito dopo aver intascato la somma contante di Euro 500 ed argita da un imprenditore a dire locale quale anticipo della richiesta estorsiva di Euro 2000. Le indagini hanno infine permesso di accertare l'esistenza di due ulteriori piazze di spaccio, la prima itinerante e l'altra autonoma rispetto alle altre e gestita da soggetti contigui a diversi gruppi criminali, fisicamente ubicata all'interno di una fetta di territorio storicamente controllata dal clan Cesarano. A riscontro delle attività di intercettazione in un lasso di tempo di circa un anno, sono state arrestate in fragranza di reato 5 persone, 2 per estorsione aggravata dal metodo mafioso e 3 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati un chilo circa di marijuana e 30 grammi circa di cocaina. Al termine della formalità di rito, 5 indagati sono stati associati in carcere, 6 sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, mentre altre 5 persone sono state sottoposte alla misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania.